Quindi è grande soddisfazione quest'anno per tutte le manifestazioni che sono attenute in questo periodo di festa. Innanzitutto auguro a tutti i passiglianesi a tutti noi un 2014 migliore di quello passato e questo fa sperare bene per il prossimo anno. Quindi abbiamo iniziato con alcuni eventi particolari e intendiamo svilupparli e migliorarli perché comunque si può sempre migliorare. Abbiamo guardato benissimo quello che devono essere gli eventi per aiuto ai commercianti che in un momento di crisi bisogna pensare a tutte le situazioni e non solo a fare i bilanci. I bilanci sono troppo dei problemi di tutte le amministrazioni però si può anche trovare delle soluzioni idonee per avere delle situazioni particolari. Abbiamo riprodotto e riproposto il Presetto Vivente che è un grosso evento per Passignano, una grossa manifestazione e ci auguriamo, perché già ne stiamo parlando, di poter organizzarlo in modo superiore a quello che abbiamo fatto in queste feste. Quindi l'amministrazione è a disposizione, è a disposizione di tutte le associazioni che hanno contribuito e contribuiranno sempre, comprese quelle sportive, affinché il Passignano cresca a livello culturale, sociale e economico.